Gemma Galgani di Uomini e Donne lascia tutti sgomenti. La dama finisce sotto i ferri. Arriva l'inaspettato intervento. Che cosa le è successo? Scopriamolo. I fan sono rimasti a bocca aperta. Gemma Galgani letto quotidiano.it Gemma Galgani lascia tutti senza parole. L'amatissima dama del dating show di Canale 5 si opera. Ecco perché è finita sotto i ferri. Gemma Galgani si opera. Gemma Galgani è senza dubbio la dama più chiacchierata del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Lei che ormai è il pilastro fondamentale della trasmissione, continua a riservare sorprese e colpi di scena. Gemma Galgani letto quotidiano.it Anche se Uomini e Donne è in pausa, la signora turinese sui social che utilizza e anche frequentemente, è diventata una vera e propria star. Insieme alla sua migliore amica, Ida Platano, condivide con piacere dettagli della loro amicizia ma anche altro della vita privata, con i suoi tantissimi seguitori. I telespettatori ne sono convinti, senza Gemma la trasmissione non avrebbe lo stesso tono, lei è una presenza irrinunciabile per la stessa Maria De Filippi. Proprio nelle scorse ore, è arrivato uno scoop clamoroso che travolge la protagonista del salotto dei sentimenti di Canale 5. La Galgani finisce sotto i ferri, arrivava l'inaspettato intervento. Che cosa le è successo? I fan sono rimasti senza parole. Trapelano delle notizie che sconvolgono tutti. Cosa è successo alla dama di Uomini e Donne? Perché hai finita sotto i ferri? Gemma Galgani torna a far parlare prepotentemente di sé. La dama torinese finisce sotto i ferri, si opera. Che cosa le è successo? Fa sapere il settimanale nuovo di Riccardo Signoretti che la protagonista del dating show di Canale 5, ha deciso di cedere nuovamente al fascino della chirurgia estetica e di ritoccare ancora una volta il suo viso. Sapete che cosa ha deciso di Elie R.I. Farsi? Il naso. Gemma Galgani dal chirurgo Letto Quotidiano. It si legge sul settimanale che ha lanciato la notizia bomba che ha sconvolto tutti. Gemma tornerà in tv con il naso rifatto? Si vede anche un prima e un probabile dopo della dama torinese con il naso sfinato. Non è la prima volta che la Galgani si sottopone a un intervento chirurgico. Già in passato ha ritoccato altre parti del suo corpo per sembrare più giovane. Ricorderete che la protagonista indiscussa di uomini e donne fei sparlare tutti dopo essersi sottoposta a un intervento al seno che è diventato oggi più prosperoso. Ha fatto inoltre un lifting al volto, ha rimpolpato le labbra e si è rifatta anche i denti. Insomma, per concludere in bellezza, non le resta che modificare il naso. Il settimanale di Riccardo Signoretti ha creato scompiglio sui social e non è mancato l'intervento di Tina Cipollari che ha commentato pungentemente così. Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest'anno recati direttamente a Lourdes, solo un miracolo potrebbe renderti bella. Già è cominciata la guerra tra le due prime donne di uomini e donne. Chi le avrà vinta, e soprattutto, Gemma Galgani si sottoporrà davvero a questo intervento estetico? Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti. Se ci sarà questa operazione, la dama sicuramente si mostrerà con il suo nuovo naso sui social. I fan non vedono l'ora di scoprire quali sono le intenzioni della torinese. Per il momento, però, la protagonista di Ued si nasconde dietro il silenzio. Il settimanale nuovo lancia lo scoop su gemmallettoquotidiano.it Grazie.